Ciao a tutti, testimard.com, quest'oggi facciamo vedere l'unboxing della nuova Asus GTX 970 Strix Edition, il nuovo brand che ha lanciato Asus ultimamente per le schede grafiche ma anche per le periferiche da gioco. Analizziamo prima la scatola, la confezione, il suo bundle, poi parliamo della scheda e delle sue specifiche tecniche. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola abbiamo il logo Asus, il logo Strix, come abbiamo detto il nuovo brand di Asus e abbiamo la dicitura che questa scheda è dotata del DirectCO2, cioè un dissipatore proprietario di Asus con l'hitpipe direttamente a contatto con la GPU. In questo caso abbiamo 3 hitpipe a contatto con la GPU. Questa scheda inoltre è overclockata di fabbrica, infatti presenta circa 80 MHz in più rispetto alla soluzione reference, abbiamo 4 GB GDDR5 onboard e abbiamo modalità 0 dB per quanto riguarda la scheda mentre si trova i needle, infatti se non presenta carichi pesanti la scheda resterà con le ventole ferme e quindi con assenza di rumorosità. Inoltre presenta un controllo delle VRM digitale chiamato DigiPlus, proprietario di Asus. In alto abbiamo l'immagine del gufo o civetta, non ho capito bene che animale sia, che è la la mascotte del logo Strix e poi in basso troviamo il nome della scheda che in questo caso è GeForce GTX 970. Giriamo la scatola, allora come possiamo vedere partiamo dal basso, abbiamo 3 anni di garanzia che Asus ci offre, quindi 2 anni dal negozio più un terzo che possiamo contattare direttamente Asus per la garanzia, non tutte le schede hanno 3 anni, di solito 2 anni, abbiamo le varie certificazioni, qui abbiamo le varie uscite video di cui dispone questa scheda che è una display port, una HDMI, una DVI e un'altra DVI che è compatibile anche con, trasmettono anche il segnale analogico. Poi abbiamo la figura della scheda più in alto, il logo Strix e Asus. In quest'altra parte abbiamo 3 di Tascalia che ci spiegano le caratteristiche della scheda come il dissipatore direct to 2 e la modalità 0 decibel. Abbiamo una di Tascalia che ci fornisce informazioni su tutto quanto riguarda sezione VRM e il controllo digitale ci indica le funzionalità del software di Overclock proprietario di Asus, Asus GPU Tweak. Più in basso invece abbiamo le maggiori features della scheda. Andiamo ad aprire la confezione, che è tipica delle confezioni Asus degli ultimi anni. Infatti troviamo il consueto box sottostante al cartone esterno con il logo Asus dorato e il loro motto. Aprendo troviamo sempre un'altra box che contiene accessori con il logo Asus dorato e troviamo in questo caso solamente CD driver e manualetto di installazione rapida. Non sappiamo se questo sia il bandron definitivo, infatti il nostro è un sample per i giornalisti e quindi molto probabilmente il bandron è quello definitivo. Togliamo questa spugna protettiva e troviamo la scheda involta all'interno di questa busta anti-elettricità stabile. Allora ecco qui la scheda. Allora parliamo un po' delle specifiche tecniche di questa scheda. Allora abbiamo il nuovo chip Maxwell GM204 che fornisce 1664 Cuda Corts operanti in questo caso, quindi non soluzione reference in quanto la scheda è per floccata di fabbrica, operanti a 1114 MHz in base clock. In boost clock invece arriviamo a 1253 MHz. Abbiamo 64 ROPS, 104 TMU e il clock delle memorie è a 7800 MHz effettivi. Inoltre abbiamo 4 GB on board GDDR5 come riportato sulla scatola e abbiamo un bandwidth di 224 GB secondo in quanto il boost è di 256 bit. Allora parliamo un po' della scheda. Come possiamo vedere abbiamo una cover in metallo e non plastica come avevamo trovato sulla GTX 780T qualche mese fa che abbiamo recensito. Abbiamo qui il logo Asus che presenta questa plastichina, cerco a toglierla. Aspettate. Eccolo qui il rilievo. Poi abbiamo alcune serigrafie come possiamo vedere tribali al centro della scheda e abbiamo queste due grandi ventole che lavorano solamente quando la scheda ha determinati carichi di lavoro in quanto i nido rimangono ferme. Sono ventole da 80 mm e presentano questo sticker centrale che ricordano gli occhi del gufo presente sulla scatola. Queste ventole hanno il compito di raffreddare il radiatore in alluminio sottostante, nel lamello di alluminio sottostante, alle quali viene trasmesso il calore della GPU tramite delle heat pipes. In questo caso sono tre e come possiamo vedere la superiore è da ben 10 mm, mentre le inferiori sono da 8 mm. Restiamo il lato superiore della scheda. Allora, come possiamo vedere abbiamo un unico connettore 8 pin per alimentazione in quanto l'architettura Maxwell consente di abbattere i consumi rispetto a Kepler. Notiamo un enorme heat pipe da 10 mm di diametro che consente di avere un'ottima dissipazione del calore. Notiamo il logo Strix, protetto sempre da una pellicola in plastica che non so a togliere perché vedo che è molto complicato. E poi abbiamo i due connettori per lo slide, per mettere più scade in parallelo, fino a 4. Come possiamo vedere è leggermente rialzato rispetto alla fine del PCB in quanto il dissipatore dell'Asus è levemente più alto rispetto al dissipatore reference. Poi il lato posteriore della scheda mette in mostra un bellissimo backplate d'alluminio spazzolato di colore nero. Non troviamo nessun bollino sulle viti posteriore quindi possiamo smontare la scheda senza perdere la garanzia e quindi possiamo montare un dissipatore aftermarket oppure un water block senza perdere la garanzia. Come possiamo vedere meglio da questa inquadratura abbiamo i connettori dello slide rialzati rispetto al PCB. Notiamo che il PCB della scheda è più corto rispetto al dissipatore di 4-5 cm. Infatti il PCB finisce qui e il dissipatore si allunga per altri 4 cm. Come possiamo vedere infine abbiamo il connettore PCB Express 3.0 e per la parte posteriore possiamo dire che è tutto. poi mostriamo la parte inferiore. Abbiamo il connettore per le ventole di tipo PWM e abbiamo le due pipe da 8 mm nichilate come quella superiore e abbiamo delle viti che servono per smontare la copre in metallo dal corpo del dissipatore. Come possiamo vedere dall'inquadratura le RAM in questo caso sono Samsung e non sono dissipate da alcun dissipatore, neppure passivo. per quanto riguarda infine le uscite video abbiamo DisplayPort, HDMI, DVI e DVID. Possiamo dire allora che questo piccolo video unboxing è davvero tutto. Il test completo e le foto migliori e le ulteriori foto di questa scheda le troverete sul nostro portale a recensione ultimata. Per questo video è tutto, un saluto dallo staff di Stream Hardware. Ciao!